Nessuna speranza per loro in Sierra Leone. La luce si è accesa grazie ai chirurghi dell'azienda ospedaliera. Saranno operate a Padova due gemelline siamesi di appena un mese che in comune, sin dalla nascita, condividono la cavità addominale e l'intestino. A segnalare il caso, quasi disperato, un medico in missione del CUAM di Padova che ha contattato Team for Children. All'appello non ha esitato rispondere la regione presidente Luca Zaia. Non ci ho pensato un attimo e sono intervenuto, spiega il governatore, che aggiunge il Veneto, fedele alla sua tradizione, cerche in ogni occasione di aiutare chi soffre da qualsiasi parte del mondo provenga. In campo è sceso il programma ricoveri umanitari che sinora ha aiutato quasi 700 persone ed è stato finanziato anche per il 2019 con 400 mila euro.